Già mi fa riportare Danca Leona Vabbè vaffanculo, che cosa volevamo fare? Volevamo fare, possiamo provare Era dall'inizio che mancava per Instagram Cioè, non è che mancava, dava le kill agli altri Ma quindi è finito, è verso Sì, per forza Avevamo completamente uno in meno Anzi, neanche uno in meno Uno che affidava, quindi Un in più dagli altri Gli altri ne avevano un in più Un bel game Eh, è proprio una roba in grip Ho finito uno dieci Sì, quanto hai fatto? Due, uno, quattro Ah, ma io ho smesso A livello 9 io ho smesso di giocare, quindi E a che minuto avessi trovato? Al sedici sono arrivati Loro al sedici? Sì Cazzo Quindi un po' la durata Eh, durata... ha detto a due minuti Sì Ho voluto provare Te l'ho detto Vittossici Vittossici Adesso devo provare a riperdere quei cazzo Devi prendere quei punti che mi hanno fatto perdere Quei stilessi Sì Sì Era flexo o era... No, era flexo Oh fuck you, fuck you Max! Max! Aspetti il tuo sub Che bastardo Cos'è ora? Addio Maxi Vagli a far perdere dei punti Milo Non mi vuole per perdere i punti Una sola Una sola te ne manca? What the fuck is going on? Guarda che si perde Guarda che si perde Danno la kill Porco dio Guarda che muoiono tutti Sapevo io Che bad So bad So bad guys Vaffanculo Blitz di merda Ma Ma Cosa ho fatto io? Guardate In testa la coda E fai prendere i danni di tutti gli altri Sei un bastardo Ma certo scusa Ma certo Ma certo Ma certo scusa Comunque flash io Out E poi Eh certo Sta ammazzando la calista di merda Calista Morgana E' una cosa assurda Madonna questo poi Dai Dai Basta Do not gank mid Oooooooo Non ha bisogno di gank mid eh guys Porco dio Forse hai tentato Comunque qualcuno di me ha flashato Non so che occhio Oh Claude ha avuto proprio paura eh Non ti hai invitato? Calista ha flashato eh No No Max Calista was flash Ha flashato eh Eh prima per provare a killarmi Non ce l'ha fatta E' un italiano italiano e mezzo inglese Porco dio ma non rompri i coglioni Ha flashato cristo coglioni su fax Stami davanti porco di Perché ti sto davanti? Ma che basta ma baffanculo madonna mia accidente a me Dovresti essere bravo ad agiare Non mi rispoglio nemmeno Fatta cacca che mazzo Non mi rispoglio nemmeno Fatta cacca che mazzo Niente oh Fatta cacca oh Questo pezzo di merda Ma vaffanculo Niente oh Da te Max non ce l'ha fatta a vano Bruta persona Ma vero Ma non ci risponde più Ma non ci risponde mica più eh Ho sentito un sospiro ma mi sa che era di carlo Sono io sono io Sei anche mutato ora Ah siamo mutato O non ascolto Fatta merda Oh Bruta persona Veramente Cazzo è tiltato È tiltato il mid lane ci hanno tiltato Il nostro? Ehi Morto di nuovo È tiltato da solo Sì Cos'era C'ho provato Ha fatto un passo in avanti Un passo Sì Morgana aveva fatto un passo in più L'ha potuto grabare Vabbè Tanto non provo neanche a grabare Ti non hai Non hai le summoners Eh no 40 secondi per lì Occhio Sì sì Ho solo Ho solo mandato un po' avanti la wave Non hai mai Sì Sarà wardato questo brush Sì Ce lo vedrai Eh Trovo Eh 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 Ehi, i danti arrivano uguali, stronzo, maiala. Oh, però ora non ha più lo shield. Eh, 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 eh. Un secondo! Sì! Quella troia! Bella lì. Oh, un secondo è lì, al porco Dio. Un secondo, vaffanculo. Io all'auto, dai, comunque. Eh, no, davvero? Beh, sì. E guarda qua come ti tocca, mi tocca carriarti, cioè. Ma stai zio, zocca carriarmi? Cosa? Vabbè, comunque la kill l'ho presa io. Sì, vabbè. Sì, eri indietro a tirarti le seghe con quella canista di merda. Quella Morgana, eh, ci ho fatto per... Quella Morgana lì, comunque, è veramente stupida. Sì, sì. Ha tirato il flash shield. Poteva killarci, eh. No, ma poi ha tirato il flash shield a caso. No, non era a caso, era per le cose, i trappolini di merda. Eh, vabbè, a caso, però i contro blitz lo usi così. Ah, sì, anche quello è vero. Oh, ma ne ho stoppato, che testa di minchia. Vabbè, se c'hai mano puoi rimanere se non c'è nulla da comprare. Io dovevo prendere una BF. Eh, io da comprare se avevo qualcosa, però... Ma ne è necessario. Oh. Attenzione al suo cazzo di stopwatch. Ma se l'aveva anche prima, eh. Sì, ma non mi ricordo a che minuto si sblocca. Mi sa che sono dal drago. Eh, infatti, è quella la sensazione. Magari passa da qui qualcuno, che è anche Gragas. Aspetta e spera. No, non tirato il cosino, non tirato. Non so. No, prenditi quelli, ti danno 20 invece che 17. Questi, questi. Bravo. Eh, ma quello di prima... No, quello di prima era uno dei maghi dietro. Oh, mamma. Non ci ho fatto caso. Oh. Oh. Ho fatto quasi sognare. Se la gente non doge, non è mica colpa mia. Gragas, chi è che ti ha tirato un colpo di tosse, ragazzi? Ma che è un colpo di tosse? È una persona che mangia una patatina, un colpo di tosse. No, era un pochettino delle cicche. Eh, vabbè, insomma. Insomma, abbiamo sbagliato. Ha usato di nuovo un black shield. Se la prendevi. Eh, se la prendevo, c'è. Oh, io al fra 60 secondi. Ma te ce n'è una guarda a metterli? No, l'ho usato in lane, vedi, sotto. Occhio a Morgana. Ecco. Ah, l'hai già usato il grab? Sì, sì. No. Eccola! No, cosa fa quel grab che è simpazzio? È scemo. Vai, dai, ce la fa. Oh, c'è una pink qui. Occhio, eh, occhio. Ah, c'è una piazza. Pensavo che avesse paura e lo mettesse su di Rari. Ma che è? Quella ha preso solo a se stessa, mi sa. Mi sa che ha accaduto lo stesso cooldown il suo grab. Penso che il suo shield è il mio grab. Tutti ce ne hanno i sei, eh. Cioè, una c'è i sei. E noi tutte due. Oh, ma è vero, comunque anche Calista mi counter. Se io grabbo cosa, ma può usare l'ult e salvarla. Yeah. Beh, niente, ho preso troppi danni. Chi c'è? Ah, ma per me. Vabbè, se va in base, sì, sì. Tu devi ancora comprare, mi sa. Infatti, io dall'inizio... Ho un po' di soldi. Prendo il coso per la statica o prendo o chiudo le scarpe? Sei te la di carry, mica io. Ah, sì, ma... Io prendo il coso per la statica e ho preso le scarpe. Sì, vado più veloce. Ho anche più autoattacco di veloce. Sì. Nooo. Oh mio Dio. Ma è andata bene, non si sa come. Effettivamente. Non si sa come ha fatto, eh. Oh, qui c'è Kazisk. Io sono in lane, non ti sto seguendo, eh. Sì, sì, vai, vai. Lo so, lo so. Non so dove sia la botta. Allora, Morgana è qua. Ok, perché forse Kazisk e Morgana vengono da te. Io sto facendo un giro largo, eh. Ti capito? Vabbè, te l'ho detto. Vabbè. Che l'avevo qui? Un pur salvo. No problem. Ho flashato, però. C'è ancora Kazisk, Kazisk. Ah, mia, 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 mia. Gnac. Sono quasi sicuro che ci sia ancora. Stanno troppo avanti, stanno troppo avanti. Sinob. Vengono troppo sparat... No, Morgana è andata via. Non me l'aspettavo mai che Morgana andasse via. Ma perché Morgana è scappata via con la ulti? No, la ulti aveva già usata, era qui, con la Zonia. È scappata via con la ulti di... cosa? Del suo di carry? Ah, sì, è vero. Quello sì, è vero. Vabbè. Al posto di andar su di me, io ero pronta a flashare. Infatti, hai visto che ho flashato? Che scemi. Eh, l'hai perso, quello. Eh, quello sì. Vabbè, è easy. Vabbè, ma te l'ho detto, è che... Oh? Dove vai? Ah, sei già... Vabbò. Intanto lo sarò rimangono gli occhi, eh. Vabbè. JJ. Io te l'ho detto, stronzo. Sto a continuare e killano un'altra, ma vabbè. Eh no, quella lì non la uccideva mica. Eh no. Però la devi man. Che sei frugato in mano? Io ho detto autoattacco. Andiamo mid? Io ho poca vita, sì, sì. No, cazzo è qua, cazzo dici. Tu. Vai. Mia. Uh. Sono segreto. L'ho fatto, liaro. No, c'aveva quel cazzo di scudo di merda, vaffanculo. Vabbè, prendiamo la torre, dai. Oh, ma siamo pusciati anche la seconda. Sì, sì. La nostra mid, eh, non ci sta. Oh, qui c'è cazzo, vieni indietro. Arrivo. Oh, sì, 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 ci sono, ci sono. Possiamo andare a me, dopo, eh, io vado lì già. Qui ci sono. Flash io però out. Vado bot, mi sa. Sta attento, eh. Sei morto? Ma giusto un po' tanta gente. Ce l'hanno tutti. No, io mi sa che continuo, che dice? Sì, sì, io l'hanno, eh. No, sono tutti là proprio. Sai, midi ha passato il tilt. Oh. Ha anche usato Rinald, è la Rinald. Boh. Sì, sì, ha usato Rinald. No, no, boh, dico, cosa faceva, non lo si sa. Ha sbagliato la cupo, Rinald. Sennò forse mi killava. Ma la mano. Con la shot. Oh, c'è il blu, lo vuoi? Eh, volentieri, guarda. Oh, c'è il blu. Occhio, eh. Ci ha provato. Eh, ho occhio. Occhio. Io torno in base, eh. Ma cos'è che bevi? Red Bull. Oh, via. Oh, cosa ha usato la ulti? Ho visto. Non potevo far molto, mi avevo bloccato. Ah, ho visto, ho visto. Minchia. Non so perché non mi hanno shotato, ma va bene. Io li ho flashato e li ho silenziati tutti. C'è Katzix qua, eh. Ho visto. Cazzo, mi riuscite a tankare la tour, bastardi. Io vado botte. Io vado botte. C'è Katzix, eh? C'è Katzix. Sì, hai guardato qua, mi sa. Carlo? Aspetta. Ci sono? Porco Dio, sì. Troppo. Ho provato. Ti ho shotato subito. Dai, dov'è? Oh, affanculo. Io cazzo, l'affanculo che c'evovo botte. Cazzo, cazzo, cazzo. Cazzo, cazzo. Ora si fa la kill. No? Ma la calista lì è un minion, ma che kill fa? Dove è tutta la farm? Minchia. Sto babbino non mi ha risposto, ma Massimo è andato via? Boh, si è mutato. Dopo io che sono sub? No, perché non volevi invitarmi, lo strozzo? Vabbè, che c'entra? Basta... Cioè, perché deve mutarsi? Boh, perché è strozzo? Questo è una roba. Lo riportiamo. Oh, dammi un attimo, va là. C'è il drago, c'è il duago. Ci sei Carlito? Ci sono quasi. Vabbè, dai. Sta stranzata, non si può più vedere. Vabbè, ha flashato, Morgan. Lasciate uno. Questa è di minchia. No, top! Si frega della top. Vabbè, poverina. Eh, niente. Vabbè, se ti scappa il grab, Pippo. Sai che me lo chiedi? No grab, eh? C'è il camminolo. C'è il camminolo. Poi, potevamo andare a fare il bar. Eh, mi sa che è nuorta. No, tabù, si era nuorata. No, tabù, si era nuorata. Oh, è Kha'Zix. Kha'Zix, ha fa Ike ancora. Buono. Beh, bella Ike ha fatto Kha'Zix. Ma migliore di sempre. Però Gragas è ancora peggio, quindi. Vabbè. Possiamo altre lane? Pure facciamo il Baron. Ci siamo per il Baron? Eh. Oh, ma flashata, fa cosa. Io per il Baron ci sono. Baron, ci sono. Io per il Baron. Gragas, dipende se c'è lui. Oh, ma senza ultimo. Oh, ma Che è il Baron, no? Oh, ma C'è lui. Oh, ma Ah, no. Oh, ma Che è il Baron. tu sei. E' il Baron. Oh, ma vabbè io ormai mi faccio la top visto che non è ma 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 vabbè allora perché nessuno vuol fare voi mi faccio questo non so cosa vogliono fare sinceramente stavano andando avanti e indietro senza fare un cazzo andiamo al top piuttosto basti vengo al top basta 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 però no vita no 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 beh io smarco bot facciamo un drago il drago è quello schifo eh ma che schifo quello è buonissimo schifo non mi fa cagare ma è il più forte che c'è guarda vabbè ce l'ha fatta anche da voi vabbè ma dai cosa fa gragi chiama ora vabbè 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 lo attenzione come faccio ad impostare le skin dei lumi appena sei in partita chi dovrebbe accanto al flash a tutte le cose ci dovrebbe essere il nome easy boobish carriato easy ma cos'è ora le rex solo duo non le puoi fare con più amici no? no ma volpire boh c'è questo open party di merda è la cosa aperta max ne ha fatto un'altra ancora ma le vince a me ma le perde tutte o? vado a vedere no è andato solo ora in partita da 3 minuti che è dentro io lo vedo da 3 minuti ha perso ha perso? ah no però questa mi sa che era quella di prima è quella di prima ah prima dove era? io vado fino a fare un saluto a filo che è in un'altra stanza che non ha capito che cazzo combina vado 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 oh my god user left your channel user left your channel ufff uff 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 Oh okey fuck okey fuck oh brand bard bardino user was moved out of your channel oh what e oh maniação no Grazie per la visione! 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 Silver vale MMR alto! Silver quanto? Ormai sarà gollo! Uno uno! Non sei in promo no? No io no! Infatti ho detto vado a dar fastidio! Ho la tua promo o quella di Silk Road? Bella! Oh! Oh! Se prendo S ce l'ho anch'io al 7 dopo questa! Mmm buono! Veramente buono! Guarda che in quest'account qui la season scorsa avevo tipo 60 game con barbie! Oh! 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 Oh, il cenas 1991 poso qua! close questa è scema sembra che a me veniva avanti se io avevo lo stun era morta lì ho fatto a non stommarlo se dubbio 4 3 2 molto dubbia il prossimo passo che fa qui in avanti la uccidiamo vado a prendere i miei figli e philippo Sì Entenduto Abbiamo fatto il coltbot, chi l'ha fatto? Reksi su Reksi su Reksi su What? Ma buone Ma com'è possibile che non lo stunno? Non lo so, vai via Non so come sia possibile Hai visto? Due volte attaccato al muro Non l'ho stumbato Support per support Non si, support per la repair Meglio No Non c'ho ancora 1.300 Rimani Cosa che sono super Eh ma Jungler? Ma Jungler non viene Fidati Mi fido una sega Ti sei fidato un po' troppo Ti sei fidato male E io non pensavo che stavi sotto la torre Eh ma ormai ci pure anche quella gianna di merda Anf Pensavo di farla Rimatti i soldi? No 1.250 O aspetto o mi prendo qualcos'altro Mi sa che mi prendo qualcos'altro Tanto se va a finire così Riusciamo ben presto a vincere La devi Spero Lì non sono riuscito a stunnarlo Ma fanno dei lavori questi due Si è aprirò anche io Certo Poi hanno usato sia io che pare Non abbiamo User joined your channel User joined your channel Chi è? Massimo A parte sta zitto Può darsi sia Massimo Ma sorella Eh eccolo Vinto o perso? Ho vinto vinto Tu non hai invitato Milo Stronzo No perchè facevo solo quella di partita Ora l'ho invitato per una rama Cioè è bloccato tutto quanto? Aspetta Cazzo Io non ci so No è un attimo Allora lo stai facendo perder cara o lo fai vincere? Purtroppo sto passando vincere Dio booo Come ti pago male Non ci so Che 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 la nostra lane mi sa che non stanno andando benissimo ed è 2-1 ai 30 di prima che avevo vinto una cosa di no più che l'ho fatto tutto da solo mi sono girato un attimo visto che faceva la kill ti ho dato una mano a farla seconda o meno bella cazzo dove era c'ho anche la bf eccolo vai vai te corri sto correndo a parte che forse forse beh se vuoi fightare c'è 5 secondi per lì no vada prendimi vada prendere la bf quel cog sta fermo proprio nella posizione arriva Gianna attenzione c'è cosa gli hai fatto fare mi piace mettiamo cioè preciso preso preciso prima che lo prendesse qualcun altro user joined your channel nooo ho sbagliato eh vabbè dovevo parlare no no mi sono unito dovevo parlare ancora un attimo continuo ho spinto user left your channel che scemo ho spinto ed è uscito eh sì perché si è sbagliato era nel canale di sotto con il filo 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 ma filo chi? FRAGALONE eh? FRAGALONE ah frago come mai non viene in su? perché è nel canale di sotto ma non poi basta ah 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 come di una volta esatto per fm a scrood e due dei matti ma preferisci vengar? no ma poi lo sai cosa è successo a me vengar eh max eh allora vabbè ruzzo mi aveva detto che over non poteva dopo over ha detto che prima delle 11 non c'era no? eh alle 9 è venuto da me ma infatti me l'ha detto cosa si ma di mo' era una casa di flood accidente a lui lui era da me che aveva bisogno dell'internet si gli ho rammentato che lui era dei mali c'è un motivo se era dei mali ahahah se mica bisogna di spiegazione infatti lui fa così punto e basta non so come va a finire punto e un team meno il team cacro veigar prende inner digger no no io te lo dico max se vado male con asce è colpa tua eh io prima ho preso al se meno Ah no, ma qui è impossibile andare bene, c'è l'impressione che voi... Se va male è colpa del support Beh, maggio povere... No, ma chi è? No, ma adesso siamo in arma Comunque è colpa del support Dai, i support mi so che saranno quelli che fanno i danni Comunque quello di Phil era dodicesimo Sì Sì, ha detto che sono morti tutti nel giro di niente E lui stava morendo perchè in una tempesta intorno gli ha lasciato 5 di hit Lo stava uccidendo Stava giocando, se lui è a Fortnite S'era scaricato oggi Prima partita dodicesimo Era ancora vivo eh Sono venuto di qua Era ancora vivo? No Quando Torri ti dice che ha vinto la prima partita Ah boh Ah boh Non me ne rischio Il TF sta andando un po' male mi sembra Adesso... Adesso sono ritornato Adesso sono ritornato Adesso sono ritornato Io ho detto a Philo Io ho detto a Philo prima di uscire Oh mandami un messaggio dimmi come sei andato Che dopo va a farsi la dolce Mi fa Ma ha scritto nono In realtà io ho detto nono In realtà era nono Non è Oh guarda questo Carlo Grazie eh Grazie Scusa Grazie schifoso D'ora di capi Te le trovo tutte Terzo di Ah ah, è la prima Kill e la mia Smascaro non vedi niente ma no no hai fatto bene ah ah poi il nerd digger di merda e niente non mi prima ma lo sta farmando malissimo eh tf non è possibile lo faccio tutte diavolo ho preso aiuto aiuto ti vuoi la vita no no ho un po' indietro adesso ho la data brand no l'ho spinta io ho sbagliato tasta not bad ciao sei stupido ho sbagliato tasto oh carlo drago drago me ne va siamo quella maiala quella maiala la maiala la maiala non è vero non è vero ti rischio ti rischi eh sto un po' pingando vado bot di nuovo vai vai vado di nuovo a bot morta ma vaffanculo perchè entrambi la puzza maledetta per terra vabbè questi tf però eh vabbè sono tutti misi vabbè 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 torno 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 indietro che palle vabbè vabbè ma cazzo cos'è qua non è vero ma non è vero era il mio eh se la fanno uguale io boia però non è vero non è vero non è vero ok ok mi lo parchi vabbè questo è fermo vabbè mi ha detto jesu mi ha fregato la vita cazzo però ora abbiamo anche trindam splitten infatti te l'ho detto il nostro team late game è bello noi che ti fimpati abbiamo te e rexai ecco ora nessuno mi può fermare da 30 oh oh fuck no porco dio eh dai vabbè no porco dio vabbè i nostri cristo santo già hanno fatto la doppia però dai vai milo bravo si ma cazzo comunque minchia ho salvato a buco di culo è vero è vero sai deve iniziare ad andare tante ma che cos'è che non vedo mai quel cazzo maledetti sputi che fa coso dall'alto quello sì perché no ma che è il baron c'è l'herald ancora ah ok ah sì 17 una sputata maledetta hai visto è vero è vero è vero è vero è vero questo cazzo fa te la fai 1v1 si ma troppi minino è vero morgana l'avevo così ucciso se gli avevo tirato un colpo è morto tani morgana fa un male eh sì poi l'hanno baffata male io sto pushando eh dai vai ma dica che culo poppy ok l'indame reggio botta è top il poppy buildato armor sono solo io armor la parte della difesa no no c'è io li si team lizi il poppy il poppy sono già morto tre volte max dietro lo dico vedo sono morto due non lo vedo nemmeno qua è morto qua giù che cam toccano vabbè si 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 ammazzerà sotto la torre fa poco poppy e doveva tirare qua tutte le persone goo moderna è qui carlo è qui é qui il nostro aimer fa un po' cagare eh un poantically E' fresciata a parte imbecille che tanto moriva uguale Chi è che mi pingava di no? Qualcun cazzo ha guidato Red Oh mio dio My god Io non ti pingavo di no Ma io voglio Tu i coglioni porco di questo Io mi sa che mi vado per la GA Finca di A Mi sa che vado sulla GA subito Per un attacco di Zed ho lo stopwatch Però noi bisogna essere più veloci a pushare Si sono suicidati tutti Per lì Muori No vivo vivo Sono vivo anche se per poco Non sei giocare? Ragazzi Vabbè trinda per lassù Vabbè trinda per lassù Vabbè trinda per lassù Come si fa? La partita molto molto 4v4 vinciamo Sì ma trinda per lì c'ha free lane eh Bisogna pusharci la top Ho bisogno che tu ti prendi un item Magari da pushare Per il modo che si pusha la lane Tipo lo Zuzurot Sì Perché Perché se no non ci abbiamo pressure E Trindale non vince per forza Però anche quello non è che fa tanto E come vuoi fare se no Uccide e prende gli obiettivi ma come fai? Ma chi? Mazzar tipo È l'unico che rompe veramente i coglioni Oh top 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 Per cazzo di shield Non riesco a tornarlo subito Non fai darlo però Eh di uno non ci sono ancora Ma la mamma di Dio non te lo abbiamo tirato Te l'ho detto un po' tanto Lui e Kokomo perché vabbè Di carry Ora ci sono Ma la morte per Trindale Mera e Zed Ma la lascia fare È full AP Poi Trindale mi sa che non l'aveva usato L'aveva usato la ultima Oh no l'ha usata Ma la pensava Pensava che non facessi dann Non si aspettava il dann Esatto Dai Garen Porco diesel Io mi parei ninja Tavi Se fossi te Magari dopo Ora faccio la gestione Sì sì ora sì Ma Tanto che i buzzi non ti serve mica niente Tanto fai attento a te eh oh c'hai tutti lì eh sto pingando porcoli col cane zed è top questi midi li possiamo uccidere nooo l'avevo usato il cane eh lo zed è ancora di sopra eh gli altri gli altri erano mid erano mid si quando volete ho capito perchè fa così tanto danno un cazzo a pira un danno si scusate va la maldio cane che mi ha fatto a prendere il giro mi lasciate solo? vabbè pushatela trindamere bot ha uccidere camorgan si io sto pushando ah si è fatto magic E vabbè mai per dire che ero un idiota cosa vuoi fare No vai via Perché sei finito te lì? Mi ho flacciato in mezzo Ma perché? Ma ne ho ucciso due Perché avevamo preso e quindi morivo Sta il Baron qui Non funzionare qui Io avevo acchiappato Poppy Allora cosa ho fatto? Ho flashato completamente dall'altra parte Ho ultato un po' e ho ucciso Morgana Ci sei te Bart? Allora sto ulti di Luxe Mi ritardato Ma dov'è? Noi ci vuoi fare abbiamo un Brennan Che sono ritardato Abbiamo i due più forti dell'Ara Che fanno cagare Ho visto la casa Ho visto il volo che ho fatto Ho visto sì cazzo Ma la madonna di Dio Cioè ma Dio voglia Dai ora si può pushare anche easy Dai non c'è nemmeno in Tryndamere Come on Non c'è nemmeno in Tryndamere Bisogna aprire un Tryndamere Ah io ho la cavo Non c'è nemmeno in Tryndamere Non c'è nemmeno in Tryndamere Oh non c'è nemmeno in Tryndamere Non continuo Eh abbiamo il Baron Se continuo adesso è proprio scemo Io pensavo che lo facessi Sai che non vince? Oh i muoviti Dio santo Fa il culo Penso che l'ho sbagliato Ci devi tanto Dai ma giocare Non si può giocare così Ma ti da delle ragazze Più improvviso anche a te Sì sì Guarda Io l'avevo vista un quarto Dall'alpago Non ci muove Ah io non ho messo uguale Ho fatto un'ora Fammi picchiava in Minion Sotto torre GG Sopo attaccherò la collezione Che c'è anche questa Dai Gruppe Non è improponibile Bella lì Via E manca una sola Poi te lo ho Carriata dove scusa Vorrei capire Provo un altro